Tre importanti provvedimenti sono stati assunti dalla Giunta Comunale venerdì scorso. Anzitutto lo stanziamento di 1.500.000 euro per la realizzazione del primo forno crematorio della nostra città. Un'opera attesa da più di 10 anni, che potrebbe essere consegnata entro il 2012 ed anche un'importantissima conquista sul piano civile. Come sottolinea l'assessore Bernardino Tuccillo, sarà importante inoltre anche il suo valore di contrasto rispetto alla infiltrazione da parte della criminalità organizzata in settori come la compravendita illegale dei loculi ed il cosiddetto fenomeno del caro estinto. Lavori di ampliamento e ristrutturazione sono stati previsti inoltre in tutte le strutture cimiteriali della città. Su proposta dell'assessore all'ambiente Tommaso Sodano sono state approvate due delibere per regolare l'affidamento di aree destinate a verde pubblico di proprietà comunale senza fini di lucro a soggetti pubblici e privati. Dopo aver sottoposto al Consiglio Comunale l'adozione di un regolamento per l'affidamento delle aree a verde, infatti, l'Aggiunta ha temporaneamente previsto la possibilità di stipulare accordi con associazioni, enti, soggetti titolari di attività commerciali, ma anche semplici cittadini e condomini interessati per la cura, la pulizia, la manutenzione e la eventuale riqualificazione di piccoli parchi ed aiuole cittadine. Entro il febbraio del 2012 saranno realizzati quattro nuovi varchi telematici per il controllo della ZTL al centro antico. Le telecamere controlleranno gli accessi alle aree di Mezzocannone e Piazza del Gesù, oltre alle corsie preferenziali di Piazza Dante, Via Pessina e Via Duomo, e saranno collocate in Via del Sole, in Via Santissimi Apostoli, in Via Duomo ed in Via Miroballo al Pendino. Un quinto possibile varco è previsto anche in Via Toledo. Prosegue quindi il piano della Giunta, proposto dall'assessore Anna Donati, che punta ad un sistema di vigilanza sicuro e nello stesso tempo di dissuasione contro gli automobilisti indisciplinati, il tutto correlato al funzionamento della nuova ZTL.